dai 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 da quella parte da quella parte dove stavamo? devo dire io aspetta io non so quanto la chiede saponete saponete? che c'è? giuseppina dice che c'è? possibile che a questo frega mai niente? non vuole far far pagare? e a che ora hai detto che si deve alzare? come a che ora? Lilino? ma tu non dici niente? cagliate non ero niente Tano tu stai a fare si e quando ti stai a fare sui sbrutuliani che ti butti prima ma io voglio venire ma io presto e tu io attendo se porti giù fate quella specie della legge e va a partire dalla casa papà se ne va tanto se ne va e qua non è giusto va va via via vabbè 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 è colpa di donna volum andrei no vabbè 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 con questo non ti preoccupare volum abbiamo fatto tre vabbè 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 Grazie.